Ciao, sono Maria Luigia di Russo, ho 22 anni e sono una studentessa magistrale in accounting and finance presso la London School of Economics. Entro cinque anni avrò completato la mia laurea magistrale, avrei desiderio di intraprendere la mia carriera lavorativa all'interno di una realtà aziendale nell'ambito del fintech. Tra cinque anni mi vedo impegnata più che mai in quello che mi piace, nella mia passione, in quello in cui mi sto specializzando. Probabilmente lavorerò all'interno di un team, una squadra competente con la quale condividere opinioni, obiettivi comuni per promuovere una crescita personale e una costante formazione. L'impatto che mi piacerebbe lasciare all'interno della società consiste nel permettere agli altri di beneficiare delle competenze che con il tempo andrò a costruire, in maniera tale che si possa instaurare un mutuale scambio di idee, opinioni, punti di vista e, come ho già detto prima, competenze che possa favorire l'intero sviluppo sociale. Le materie che conosco meglio sono quelle oggetto del mio corso di studi, Accounting and Finance, e quindi Analisi fondamentale, Corporate Finance e Asset Pricing, ma continuo a sviluppare un notevole interesse per l'innovazione e le nuove tecnologie, soprattutto applicate nell'ambito aziendale. Mi piacerebbe continuare a coltivare questi interessi per le tecnologie emergenti, spaziando, quindi ampliando gli orizzonti e andandole a studiare anche da altri punti di vista, non solo quello economico, finanziario, ma anche dal punto di vista legale o andando ad acquisire elementi e una formazione anche più tecnica e specifica. Mi piacerebbe lavorare all'interno di una squadra che abbia spirito di iniziativa, competente e che sia soprattutto generosa. Quest'ultima caratteristica ritengo che sia essenziale affinché si possa raggiungere un obiettivo comune e soprattutto si possa stabilire un legame al di là del rapporto professionale, quindi un solido legame personale.